Grazie 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 20 1 2 26 27 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 16 12 13 14 15 15 15 15 16 16 15 15 16 16 16 16 18 18 18 19 19 20 19 20 21 22 22 21 22 22 22 22 22 23 24 25 25 22 24 25 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 26 Stai un po' 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 un ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti 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 Noi siamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti